Eccolo! Eccolo! Andate a paura. Ho fatto una sorpresa! Sta suggerendo una riscrizione e chi lo siente rispetto di evitare se fate fotografie ci avete dovuto intagare il dottor Claude Vieto se avete visto la storia sull'istra Si parte, abbiamo detto, dall'inizio della rotonda ma il quindicesimo comprami di dottor Claude ha una solita appuntamento è vero, Carlo? Si, esatto! Grazie! Grazie! Grazie!